I simulacri della processione del Cristo morto realizzati da Remo Brindisi e altri artisti tornano nella Basilica di San Bernardino dopo due anni di pandemia. Le opere tornano esposte nella Navata per la processione del Venerdì Santo, che domani sera uscirà da San Bernardino alle 20. Le opere a causa della pandemia non erano più state esposte. Il Covid aveva interrotto anche questo momento che può riprendere dopo le nuove disposizioni. Si tratta della 66esima edizione, con norme di sicurezza stringenti disposte dal tavolo della Prefettura, che avviede assembramenti e impone ai partecipanti l'uso di mascherine FFP2, preferibilmente nere. I cavalieri del Venerdì Santo, che organizzano la processione, ne hanno acquistate ben 500 da distribuire. Per questo ritorno della processione dopo due anni di pandemia, ed è la terza volta che non si verifiava l'anno scorso dopo le due edizioni della pandemia e la precedente del 6 aprile 2009. Si ritorna domani. Le novità purtroppo dovute dai provvedimenti antipandemici sono tutti con la mascherina FFP2. I portatori del simulacro l'avranno nera e messa a disposizione anche dall'organizzazione, quindi dall'Associazione Cavalieri del Venerdì Santo, che cura l'evento insieme ai frati di San Bernardino. Il corteo uscirà da San Bernardino percorrendo l'omonima via Corso Vittorio Emanuele, Corso Principe Umberto, Piazza Palazzo, Via Marrelli, Piazzetta Machilone e Piazza Duomo per poi tornare indietro. La scorta d'onore sarà affidata ai volontari donatori di sangue della FIDAS. Tutti con mascherina e soli portatori dei simulacri potranno entrare in chiesa. Gli altri attenderanno fuori. Potranno entrare solo i portatori dei simulacri. Questo rispecchia un po' il protocollo del 2010, la ripresa dopo il sisma, quando in quell'edizione fu ancora più tragica. In chiesa entrarono solo i vigili del fuoco e passarono i simulacri ai vari portatori che li attendevano sul sagrato. Qui questa volta entreranno soltanto i portatori, mentre tutte le altre persone aderenti all'associazione, a quelle associazioni o alle confraternite, al gruppo dell'edetto a scortare il simulacro, attenderanno sul sagrato e dopo si uniranno al corteo.